Sarà intitolato Enrico Berlinguer il piazzale che unisce via Toledo con via Diaz, delimitato dai due accessi alla stazione della metro linea 1. La proposta è nata dall'iniziativa di un gruppo di cittadini fatta propria dal Consiglio Comunale attraverso una delibera promossa dal consigliere comunale Antonio Borghello, col sostegno di altri consiglieri, fra cui Elena Coccia e Vittorio Vasquez. Anche il sindaco De Magistris e la Giunta hanno condiviso l'iniziativa. In una conferenza tenuta questa mattina nella sala consigliare di Via Verdi è stata ricordata a più voci la figura di Enrico Berlinguer attraverso alcuni momenti della sua storia personale. Il carcere ingiusto in gioventù, la critica all'Unione Sovietica di Brezhnev, l'elezione a segretario nazionale del PC, la dura opposizione al taglio della scala mobile introdotto dal governo Craxi, e poi la questione morale, il legame necessario fra etica e politica che Berlinguer pose all'attenzione pubblica sin dalla fine degli anni 70, riscuotendo indifferenza e derisione dagli avversari politici. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela, dichiarò in un'intervista a Scalfari del 1981. Borriello ha annunciato che l'intitolazione della piazza dovrebbe aver luogo entro il mese di luglio alla presenza di Bianca Berlinguer, figlia di Enrico. A settembre un convegno pubblico ricorderà la figura di Berlinguer e il suo ruolo nella recente storia del paese.